Io però Mirko ti, ma solo una cosa questo è il ritmo che gli veniva l'incontro tenendosi a breccetto erano un gatto e un erano un gatto e una volpe c'è già qualcosa di, anche tu sei sorpreso però tipo l'igua un gatto, punto di domanda una volpe il gatto che era cieco fai proprio tipo, cieco devo esagerare un pochettino di più perché ma un pelo e facciamo solo questa prima parte va bene, va bene mentre camminava tutto contento verso casa con le sue monete Pinocchio vide due figure che gli venivano incontro tenendosi a breccetto erano un gatto e una volpe il gatto che era cieco cieco si faceva guidare dalla volpe e la volpe che era zoppa si appoggiava al gatto molto meglio allora ascoltiamo scusate e ciao ciao ciao